Fare squadra, coinvolgere tutti i livelli istituzionali, ampliare la mobilitazione all'intero perimetro regionale e non solo sul nostro territorio. Questi sono i passaggi che il sindaco Gianguido D'Alberto ritiene ineludibili per scongiurare l'attuazione del decreto con il quale il governo ha cancellato il collegio elettorale di Teramo. Una questione che per il primo cittadino non deve però essere ridotta a battaglia del solo territorio teramano ma in stretta sinergia tra tutti i livelli istituzionali. I margini per intervenire tecnicamente ancora esistono perché in conseguenza delle recenti elezioni è stata avviata la discussione parlamentare per la revisione della legge elettorale e di conseguenza per la modifica del decreto. Abbiamo già avviato diversi mesi fa la prima azione istituzionale, ho chiesto al Presidente della provincia di convocare l'assemblea dei sindaci, attendo che venga convocata perché è necessario che ci sia un'azione comune che trasversalmente interessi tutti i comuni della provincia, tutti i sindaci perché si tratta di uno schiaffo istituzionale pesante e che rischia di farci perdere una possibilità e opportunità di rappresentanza della quale abbiamo necessariamente bisogno e che rischia di lasciare ancora di più la provincia teramano all'angolo perché è l'unica provincia spacchettata. E non è un problema solo teramano, deve essere un tema regionale. Chiedo alla Regione Abruzzo di intervenire perché la perdita di rappresentanza e rappresentatività del nostro territorio deve essere necessariamente avvertita come una problematica di carattere regionale. Pertanto andremo avanti, questo è il momento perché si è riaperta la discussione sulla modifica della legge elettorale in Parlamento. Io ritengo che la strada maestra sia quella di una trasformazione della legge elettorale attraverso un meccanismo proporzionale con una soglia di sbarramento alta sullo schema tedesco e ovviamente in questo contesto si riapre la discussione anche dei collegi.